Intensificati i controlli contro la cosiddetta mala movida sul territorio pescarese, particolarmente affollato nella settimana di ferragosto. Ieri, in città, a Palazzo di Governo, si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, preseduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo. Oggetto dell'incontro interforse, i dispositivi di controllo del territorio da mettere in campo, in vista del consistente movimento di turisti che raggiunge la costa pescarese. Nel Mirino, sia a Pescara che in provincia, il cosiddetto fenomeno della mala movida, vale a dire risse e disordini vari, ma anche l'abusivismo commerciale, la violazione delle misure sulla sicurezza sul lavoro e l'uso di sostanze stupefacenti. I controlli riguardano anche le stazioni ferroviarie, l'aeroporto, le principali arterie stradali e autostradali per il rispetto del codice della strada. È stata intensificata anche la vigilanza sull'intrattenimento, sulle attività in mare e a terra e gli incendi boschivi. C'è un piano ben preciso, anzi ce ne sono due di piani. Uno è quello interforse con le altre forze dell'ordine che è stato definito proprio ieri in sede di comitato per l'ordine di sicurezza pubblica, col signor prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri. In aggiunta a questo piano, la Guardia di Finanza già dal mese di luglio ha avviato uno specifico programma per la sicurezza economico-finanziaria. L'abbiamo chiamato, come l'anno scorso, play the game, rispetto alle regole, perché il divertimento, perché sia sicuro, deve essere garantito da una cornice di sicurezza e di rispetto delle regole. Quando parlo di rispetto alle regole intendo la tutela dei lavoratori. Infatti nell'operazione dell'altra sera, in occasione del concerto di Fabri Fibra al Zoo Fest Music, qui al porto turistico, abbiamo scoperto, ahimè, diverse posizioni di lavoratori senza tutele, senza garanzie, completamente in nero. Accanto a questo poi abbiamo scoperto anche casi di contraffazione, di accessori di abbigliamento, con i loghi proprio dei cantanti che si sono esibiti in queste serate e non è mancato lo spaccio di sostanze stupefacenti. Abbiamo sequestrato decine e decine di spinelli, abbiamo segnato diversi soggetti, alcuni anche con precedenti particolari, precedenti penali, al Senato Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative per l'uso ai fini personali, la detenzione per uso personale. Che cosa intendiamo per Malamo Vida? Il divertimento senza il rispetto delle regole. Il rispetto delle regole è un concetto, diciamo, universale, trasversale, che passa proprio per la sicurezza. La sicurezza vuol dire non eccedere nell'utilizzo di alcol, naturalmente di sostanze stupefacenti, e poi far sì che anche gli operatori commerciali svolgano correttamente le proprie attività. Questo anche per sia la tutela dei cittadini, che rischiano di essere frodati, ma anche per la tutela invece degli operatori che operano nel giusto, nella legalità e che rispettano le regole. E chi invece le regole non rispetta, falsa la concorrenza e quindi altera il mercato.